Allora, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Francesca Spaziano e questo è il mio nuovo canale, come avete già visto nel primo video. Oggi siamo in compagnia di Sofia per fare la best friend tag. Che praticamente consiste che una di noi deve fare delle domande a cui l'altra deve sapere. Iniziamo pure, allora. Pensiamo di fare quattro domande, ma non siamo sicure. Allora, inizio io. Allora, Sofia, qual è il mio colore preferito? Azzurro. Allora, è la nostra domanda. Allora, il tuo... È verde acqua? No. Arancione? No. Rosso? No. Viola? No. Bianco? No. Nero? No. Verde? Sì! A cazzo, le avete tutte? Scusate la parola, a bip, le avete tutte. Le ho dette tutte, che le avete? Vai. Aspetta. Muoviti? Mi vedete? Sì, mi vedete. Non so cosa chiederti. Fai qualche domanda a tu. Il mio numero preferito? Il 22. Il mio? Oh, ma come mi conosci sta qui? Oh. Il mio? L'è scritto l'altro giorno, madonna. Il 4? Il 4? Sì. Perché io sono nata a 4-4-2004. Io il 22 giugno. Blè. No. Blè lo dice tu non. Vai. Il cantante preferito? I miei idoli. Benji e Fede? Sì. I miei non c'è bisogno di dirlo, vero? Benji e Fede. Cioè, sono due. Cavallo. Il secondo. No, anzi, ce ne sono tre, scusa. Eh, la madonna. Mamma mia! Oh, mi puoi anche dire delle robe. Dai, facilissimo. Allora, patinaggio. No, ma che schifo. Mi faceva, scusa, hai fatto patinaggio per tre anni. Spessita. Atletica. Che schifo, ancora peggio. Oh, palestra. Ma cosa fai? Dai, ci gioco tutto il tempo. Cioè, quando sei al parco. Ah, calcio, calcio. Sì, forse il terzo, dai, che è facilissimo, eh. Terzo può fare al passorogli. È sempre come una palla. Quello non è uno sport. Palla a volo? No. Basket? Sì! Uh! Ce l'hai fatta. Un po' più maschili? No, non lo so. Vabbè, vai. La prossima domanda è mia. Senti che sono io più alta di tesso. Tanto che mi trovo in ginocchio, perché sennò la telecamera non mi prende. Non so il motivo, non chiedetemi. Se sono dei gizzi dietro. Ok. Non sapete niente? Ultima domanda è la mia. Che ti chiedo... Se sono passate delle persone. Ti posso chiedere? Il mio animale preferito. Aspetta. Il gatto? No. Il cane? No. Vaffanculo, eh. Scusami. Oh, ma non si può sentire parolacce in questo video. Ma te l'hai detto. Le ho detto anch'io, però io mi sono scusata. Almeno scusa. Ah, ti sei scusata. Dicevamo. Caro il gatto no, che cosa, scusa? Dai! È una specie di cavallo. Un pony? Mi vedete? No. Una specie, non ho detto che è un cavallo. Eh, il pony è una specie di cavallo. Il pony è un cavallo tappo. Il pony? No, non è che il pony. Ho detto quattro volte che non è il pony. Che cazzo è? Madonna, mi abbassa, so. Cioè, ma parla peggio di me? Dai! Cazzo, guardate. Ah, non ricordo! Come avrete visto in questo video abbiamo fatto delle domande. Non è che ci siamo conosciute molto, però. Non è che ci conosciam molto. Non è che ci conosco più, eh. E così spero che voi ci av... Lo voglio chiudere io il video. Allora, questo è il canale di Francesca. No, non è che ci siamo conosciute molto, però. Allora, qui sotto. Potete farmi delle domande con scritto askfrancilina e la domanda... Ah, non è la hashtag? Eh, sì, anche la hashtag. Hashtag askfrancilina con la domanda. Io nel prossimo video vi nominerò e risponderò alla domanda che mi avrete fatto. Scrivetelo giù nei commenti. Mi raccomando. No, no, pollice giù nei commenti. Ecco, pollice in su. Spero che vi sia piaciuto questo video. Abbiamo fatto abbastanza le stupide, vero? Tu. Peccato che abbiamo appena portato sul cane, quindi non lo possiamo far vedere che... Ma il cane, il mio cane. Eh, è troppo geloso. Che si chiama... No, scusa. Però va bene. Scusa, è specifica pure. E questo è il video. Ciao! 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 Ciao!